Ben trovati con la nostra consueta rubrica settimanale in cui facciamo brevemente il punto della situazione in Casa Lecce. Dunque, la scorsa domenica i giallorossi hanno inaugurato il nuovo anno solare vincendo per 1-0 sul campo del Pordenone, grazie al gol di Mario Gargiulo, su un perfetto assist di strefezza. Una prestazione un po' bruttina, diciamo, dal punto di vista estetico, ma efficace per portare a casa i tre punti che hanno permesso a Lecce di avvicinarsi di nuovo alle prime posizioni in classifica. Ieri sera, invece, è andata di scena all'Olimpico di Roma la gara fra Roma e Lecce, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, terminata 3-1 a favore degli uomini di José Mourinho. Eppure Lecce non ha sfigurato una prestazione solida di personalità, soprattutto nel primo tempo, in cui, oltretutto, è andato in vantaggio grazie al gol di Arturo Calabresi, per poi soccombere dopo alle reti di Abraham Shomurodov e Kumbulla. Ma nel complesso, Mr. Baroni, che ha optato per un massiccio turnover facendo giocare molti elementi giovani, sicuramente può trarre delle indicazioni positive. Ora, fra due giorni, al Via del Mare, si disputerà il big match della seconda giornata del girone di ritorno, fra Lecce e Cremonese. Quanto al calciomercato, abbiamo parlato le scorse settimane dell'ufficialità di Paolo Faragò, che andrà a rinforzare il centrocampo del Lecce. Poi, in questa settimana, sono arrivati Simic. Il profilo che Pantaleo Corvino e Stefano Trinchiera cercavano per completare il pacchetto difensivo è Raul Asenzio. Raul Asenzio andrà a rinforzare l'attacco del Lecce. Sarà il vice coda. Per il momento, sembrano in entrata, non dovrebbe succedere altro. Saranno effettuate esclusivamente alcune operazioni in uscita. Però, non è detto. Le vie del mercato sono infinite. Vedremo fino al 31 gennaio cosa altro succederà. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Grazie a tutti.